Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Leonardo Bardazzi. Per il momento il traffico scorre regolare in Fipilì e in tutta la rete autostradale toscana, in A1 tra Barberino del Mugello e Calenzano in direzione Roma, personale su strada per ripristino urgente della pavimentazione. In Fipilì restringimento di carreggiata nel tratto tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina per lavori in corso. Dal piazzale Michelangelo di Firenze partirà oggi alle 11.50 la gara ciclistica dedicata all'ex CT Alfredo Martini. Il percorso toccherà anche i comuni di Fiesole, Barberino del Mugello, San Piero, Sesto e Calenzano. Previsti di vieti di transito e di sosta lungo le strade interessate. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!